Sebbene qualche volta la possiate sentire in contesti estremamente informali, ricordate che è una forma sbagliata, perciò o usate a me o usate mi e questo vale chiaramente anche per tutti gli altri pronomi. A me piace la pizza con la bufala o mi piace la pizza con la bufala. Di solito si usa la forma più forte, a me, quando si ha bisogno di dare più enfasi o mettere le cose in chiaro. Chi ti ha detto di ordinare una capricciosa per me? A me piace la pizza con la bufala.